Parliamo del tuo primo salto nel buio, il bidello, o collaboratore scolastico, come si dice oggi. Oggi lo chiamano collaboratore scolastico, ma è il bidello. Ma è il bidello, esatto. La figura di bidello. Esatto. Allora, ascolta Giuseppe, ma com'è bidello? Intanzitutto, com'è l'esperienza? Come vivi quell'esperienza? Cosa fai tu durante l'orario scolastico? Com'è la tua giornata da bidello? Ma la mia giornata di bidello comunque è sempre attiva. A che ora comincia? Dipende dai turni, se è della mattina o del pomeriggio. Però di solito inizia alle 8, 7 e mezza, 8, fino alle 2, alle 3 i pomeriggio. E cosa fai alle 7 e mezza? Ma inizio a preparare le aule per i ragazzi, li faccio trovare tutto pronto, offro i caffè, le colazioni alle pressorese. Perché so, perché so, che con qualche professoressa, insomma, c'è stata anche una bella, una bella storia. No, una bella storia. Un flirt. Un flirt. Che è successo, che è successo? Racconta. Eh, lo devo raccontare. Eh, dai. Siamo andati a fare un picnic inaspettato in montagna. Ah, non sugli scogli di tropea. No.